Sono Francesco e non mi sono laureato. Io sono Lorenzo e ho fatto l'università. Siamo compagni di banco al liceo su Infodatacast. Francesco dopo il liceo sceglie di andare a lavorare subito. Lorenzo invece preferisce iscriversi a un corso di laurea e così entrerà nel mondo del lavoro con tre anni di ritardo. Posto che un diploma universitario permetterà a Lorenzo di avere uno stipendio migliore, quanto tempo dovrà passare prima che il suo reddito complessivo raggiunga quello di Francesco? Cioè, dette in altre parole, in quanto tempo si ripaga una laurea? Qual è il break even point, come dicono gli economisti, di un titolo di studio? Precisiamo subito che non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda. Le donne, per esempio, guadagnano purtroppo meno degli uomini, le tassazioni variano, le lauree non sono chiaramente tutte uguali e poi ci sono gli scatti di carriera. Per ovviare, abbiamo preso in considerazione i dati ISTAT relativi agli stipendi orari dell'anno 2016 e abbiamo tratto alcune conclusioni. Ebbene, ciò che emerge da questa simulazione è, se Francesco e Lorenzo abitassero a Milano o a Roma, a quello laureato basterebbero meno di dieci anni per raggiungere quello non laureato. Se i due fossero residenti altrove, spesso non basterebbe una vita lavorativa intera. A Viterbo, per esempio, occorre aspettare 77 anni di lavoro. La media italiana è poco più di 15 anni. Il calcolo è effettuato partendo dal differenziale di stipendio, che è sempre a favore del laureato. Ma, in ogni caso, è triste dirlo. Conta dove lavori. E quello che fai. E come lo fai, potrei aggiungere. In ogni caso, forse anche solo per motivi di denaro, a Lorenzo converrebbe, e molto, laurearsi in corso. E in ogni caso, io non sono Lorenzo. E io non sono Francesco.